Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro diccio game 89, siamo tornati qua in un nuovo video di Fortnite A caccia della vittoria reale su OnePlus 6 Signori, sapete che io sto collaborando con OnePlus 6, eccolo qua Mi raccomando subito un bel pollicione in su, perché sapete che io sono scarso, io sono scarso a questo gioco, sono davvero, davvero scarso Sul cellulare, già sentivo che stavate a scrivere, ah finalmente te ne sei accorto Allora ragazzotti, che cosa vogliamo fare, perché ci abbiamo o Domina la discoteca, allora sapete che c'è, io non l'ho mai fatta Domina la discoteca E secondo me, per assurdo, ci può anche stare Quindi ragazzi subito un bel pollicione in su, perché oggi ci andiamo a provare una nuova modalità che effettivamente non ci ho mai pensato di provarla Sul cellulare con il nostro OnePlus 6 Signori, paracadute sulle spalle, e let's go Io, un giorno me lo mangio, faccio, me lo mangio Però regà, si vede un botto bene, guarda che roba Sapete che, non vi dico le cavolate, quindi Mi metto bene preparato regà, perché qua potremmo fare un botto di kill Un botto di kill regà, io ci spero, un botto di kill Se balla Tra l'altro ragazzi, una cosa che non vi ho detto, che se voi andate sul negozio e supporta creatore, scrivete cicciocamer89, mi potete supportare anche su Fortnite Se vi va Allora vi dico subito, forse si vede che stiamo veramente nei server da cellulare, perché siamo 29 contro 29 È bellissimo, lo posso dire che è bellissimo? Lo possiamo dire? Ok, le piste da ballo Io questa non l'ho mai fatta Non so effettivamente dove cavolo stanno le piste da ballo Io me ne vado sotto, provo a prendere qualche alma, qualche scudino E chi s'è visto, s'è visto, tutta più o tutta meno Quindi me ne vado qua Non so, non so, tanto, vabbè, l'audio non è che ce ne frega così tanto Ok, la pista da ballo Io vorrei sapere, la pista da ballo dov'è, perché io so che ci sono Ma non so dove, tra l'altro mi sono buttato in un modo orribile Ah, ma qua c'è la roba quella là Ci stanno le cose extra, forse Cioè, avete capito? Ci stanno Vi ripeto, io non so effettivamente Però che figata giocare 28 contro 28 Pazzesco A meno che che poi sono un po' stupidino E non so Che questa modalità è fatta apposta così Cioè, me lo potete anche dire tranquillamente Nei commenti, non ci sono problemi Accetto gli insulti Incredibilmente Che qua tanto io non andrei a costruire Dov'è la pista da ballo? Ah, eccole Quindi qua ce n'è una Ok E io ci andrei di gran passo in realtà Perché questa è la mira Andiamo, 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 andiamo sulla pista da ballo Perché i miei non so se hanno capito effettivamente come funziona Perché qua dobbiamo raccogliere i punti Andando sulla pista da ballo I miei stanno là I miei stanno ben tranquilli No, ma voglio proprio vedere che riesco a fare Ok, già gente Mia Qua c'è E non credo che Che riuscirò a prenderla così Così facilmente Anche perché poi Devo Dai, dai Mirko Con calma Con calma Ok Quindi Vi vado a combattere Dai, devo ballare? Uh Regà, è la prima volta È la prima volta Regà, eccolo Cioè vi faccio vedere che dovrebbe essere Tutto giusto, eh Vi faccio vedere La sincronizzazione Guarda come l'abballo Oh E Beh Bellissimo Ma è bellissimo Ok Allora Qua Stiamo procedendo Qua probabilmente c'è un attimo Di pausa Ma è qua sotto C'è gente E che faccio? Non me ce butto a morire Per forza Oh Una kill l'abbiamo fatta Una kill l'abbiamo fatta Però 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 Chi è? Eccolo 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 Bene Ma perché in realtà Aspetta 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 Madonna Santissima Uh Ma ha fatto fuori Ma è difficilissimo Regà È difficilissimo Ah vabbè che è vero Che tanto poi respono Quindi sti cacchi Vedi perché la gente Tanto Dove muore Si ributta tutta Non c'è niente da fa E se non sbaglio Oh mazza Che pezza Che ha preso Regà Oh l'ho rotto Eh L'ho rotto Vai baby Baby Lo so che così Non è una grande cosa Vai Perché Non so se qualcuno Aia Nemico di merda Ok Che non pensavo fosse nemico Si so che ce l'ho vicino Allora Facciamo così Vado qua Ragazzi Non è Non è Non è assolutamente Così facile Madò 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 Regà Poi io mi ci focusso Regà Se mi focusso È fatta Se mi ci focusso È fatta Perché c'ho pure Delle armi Un po' del ca Allora qua Qua c'è bordello Io provo A prendermi Sta roba qua Vai a capire Dove Aspetta che No regà Mi tritano Mi tritano Mi tritano Devo andare a prendere Delle armi decenti O mi tritano Raga Ho deciso Che faccio La riete Porca miseria Faccio la riete Prega niente a me Dov'è Ma perché Sbagliamo Vai Sto catturando No Sì Stavo pure Stavo pure catturando Ma Guarda quelli Da là 25 Madonna Ragazzi Dai L'abbiamo catturata Ma che bordello Quindi fammi capire Se io gli vado dietro Dovrei Trovarli tutti qua Se non sbaglio No ma Ma lo potevi lasciare Madonna mia Ok 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 No 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 Non mi sparava più Perché No ragazzi Dobbiamo catturare qua Se no ci spaccano La faccia Raga Allora io vado A prendermi B Perché qua Stiamo tutti A buttarsi là Per cercare Di far kill No che tra l'altro Non fate tre Non è che non fate Così tante Ma ok Se sono disattivate Ah Hai capito Ma hai capito Pazzesco Allora ce l'ho qua Ok Va benissimo Così Perché le armi Non te le troppano Le armi Non te le troppano No raga No raga è Di una difficoltà Oh yes baby Cioè Oh mamma mia Io posso fare Quello che vi pare Ma loro C'hanno delle armi Molto migliori Delle mie Molto Addo Addovato Addovato A fare Castelli Eh no Ragazzi Il cecchino Mi sembra pure No via Togliete Togliete Mi sembra Un po' Troppo pure Per me Eh Se trovassi Altre armi Ok Si sono Riattivate Le cose Quindi Non capisco Se c'ho qualcuno Che mi sta Per sparare Dietro al sedere Ok ragazzi Un bel bordello Qua Un bel bordello Raga HP Madonna mia Io provo A ballare Provo a ballare Che mi prendo Dai Dai Ok Questa è nostra Dai raga Tanto arrivano tutti qua Gente con lo scar Ragazzi Incazzatissimi Faccio così Ah Che botta Che ho preso Allora Dato che dobbiamo Pensare Che dobbiamo Pensare A conquistare Ragazzi Io andrei a conquistare Questa qua Sinceramente Eia Sai che conviene Che faccio Perché non posso Più togliermelo Eh Perché io volevo Fa' quello Che sta a fa' Quello là Avete Volevo fa' Quello là Io Sbagliamo Va' Vai 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 Bisogna giocarsela Bene qua Eh Vai Vai Togli Togli Vai 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 Guarda Sto tipo Troppo Prende bene Sto tipo Troppo Bene Non so Quanto Che sto Rincitando 21 minuti Il troppo E' fighissimo Bene Bene Vivo Vivo Aia Bene Cioè per farvi capire Che la gente Lascia di tutto Ragazzi Il cecchino Cioè il cecchino Lo posso anche No Sono due cecchini Ok Oh raga Dai che c'ho No Lasciami qualcosa Bruno Non ho un'arma Decente Il nemico ha costato Le depiste da ballo Ma non quella mia Però Non c'è Niente Non Non droppano armi Non capisco il perché Non droppano armi La la stiamo riprendendo Ma Mi son perso L'M4 Sono un babbo Sono un babbo Eccolo Allora raga Qui c'è Il devasto Più Totale E noi Stiamo procedendo Abbastanza bene Allora raga Io non so Oh mio dio Oh Bevi 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 Madonna mia Ok Ok Dai raga Io purtroppo Non c'ho armi Decenti Ve lo dico Madonna mia Raga Quando becchi uno Che c'ha tutte Queste armi Però Ma La gente Ok No raga Che bordello Guarda quel camper Di merda Là sopra Perché questa La fanno tutti Questa qua C'è niente da fa Io qua Vado A ricostruire Un minimo Guarda Guarda Che roba Guarda Che roba Sì ma Io devo Stare attento Perché non Mi fido Non mi fido Assolutamente Vedi Bravo Che l'ha fatto Fuori da dietro 8 56 Madore 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 Perché stanno arrivando Un botto di persone Qua raga Un botto di persone Oh mio dio Ho preso pure Un pompa decente Oh Non ho battuto uno Ma sono bravissimo Sono bravissimo Bro Non mi va di alzarti Non mi va di alzarti E non ti alzo E dai Ammazzatevi quelli per terra Che devono Ha da morire Bello questo Buono 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 Però Mi lo devo togliere Da le mani Raga Ok Stanno conquistando Aspetta che ballo Aspetta che ballo Vai Vai che dobbiamo ballare Ragazzi Dai che dobbiamo ballare Ragazzi Madonna Ma no Come la sto Prende bene Questa Prese Prese Raga Vai 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 Rianima 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 Che bordello Vai bro Ma che bordello Guarda 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 Sto a provare Vieni qua Baby Se vi facciamo male Se vi facciamo male Ormai raga Cioè Siete Vedi quanto Mi sto Quanto sto diventando Molto più pratico Vai No 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 Ma Sulla Che dolore Dai 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 Mi posso rientrare Ma non ho capito Se era l'ultima chance E me state sì E me state sì Ragazzi No Che peccato Che figata Eh sì Hanno vinto loro Ma dopo Ho 13 kill Bella Regà No Vittoria reale Abbiamo vinto noi Abbiamo vinto noi Vittoria reale Ma dai Signori Che vi devo dire Bello Ho fatto le kill Se siamo divertiti Miglior video di sempre Su one plus Spero che il video vi sia piaciuto Se fosse così Mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi al prossimo appuntamento Il vostro dicembre 89 Ciao ciao